Ciao, mi chiamo Isabella e benvenuto nella dashboard di Dish POS. In questa esercitazione ti mostriamo come assegnare allergeni e additivi ai prodotti. Per prima cosa, vai su Articoli, poi fai clic su Products. Ora ti trovi nella panoramica dei tuoi prodotti. Per modificare le impostazioni di un prodotto, utilizzare l'icona di modifica corrispondente. Si aprirà una nuova finestra in cui sarà possibile modificare le informazioni del prodotto, andare su Informazioni sul prodotto per assegnare gli allergeni e gli additivi. Quindi selezionare i rispettivi allergeni e additivi impostando il segno di spunta corrispondente. Al termine, fare clic su Salva per applicare le modifiche. Tornando alla panoramica, esiste un secondo modo per impostare gli allergeni. Per farlo, fare clic sulla scheda Allergeni. Accanto ai prodotti, apparirà una lista di controllo di tutti gli allergeni disponibili. A questo punto è sufficiente impostare i rispettivi segni di spunta per il prodotto corrispondente. Tutto qui! Hai completato l'esercitazione e ora sai come assegnare allergeni e additivi ai prodotti. Nota! Poiché sono state apportate delle modifiche, è necessario inviarle al sistema accedendo alle impostazioni generali.